Grazie a tutti. Sì, con enorme soddisfazione che questa mattina abbiamo inaugurato questa nuova piattaforma WebTV che racconta gli aspetti turistici della Riviera del Conaro a seguito anche della nostra pregressa esperienza che è partita circa tre anni fa di Vallesina TV che è una WebTV che racconta invece il territorio della Vallesina. Questo nuovo progetto parte con molte ambizioni perché comunque sia una WebTV molto commerciale che avrà come obiettivo quello di commercializzare proprio il turismo della Riviera del Conaro oltre che raccontare i posti tipici, turistici, culturali della Riviera del Conaro. È molto interessante soprattutto anche dal punto di vista della collaborazione perché abbiamo trovato sinergicamente delle aziende, delle agenzie che fanno il nostro stesso lavoro nel territorio della Riviera del Conaro che hanno sposato subito le nostre idee e quindi hanno abbracciato questo progetto molto innovativo e molto rivoluzionario che qua nel territorio ancora non è stato mai messo in piedi. L'altra società che edita Riviera del Conaro.tv è la Cubico, siamo con l'amministratore Stefano Gennarelli e allora la struttura di questo portale qual è? Tratta di una piattaforma, una piattaforma che unisce una parte di portale con una parte di WebTV. Per quanto riguarda il portale faremo in modo di inserire all'interno una serie di schede, una serie di contenuti che riguardano sia la Riviera del Conaro nelle sue bellezze e nelle sue tipicità sia tutti gli operatori che si trovano all'interno della Riviera del Conaro e che quindi vivono e lavorano per la Riviera del Conaro. La WebTV invece è la novità vera e propria, quindi un modo nuovo ed originale per promuovere la Riviera del Conaro e tutti quanti i propri operatori attraverso dei video che saranno brevi video che naturalmente poi verranno rilanciati sui social media. A completare le tre società che editano Riviera del Conaro.tv c'è anche la BNC, altra società che si occupa di comunicazione e tre società molto giovani rivolte soprattutto verso innovazione come Riviera del Conaro.tv. Sì, infatti la terza società è la BNC di Barbara Bonci che curerà principalmente la parte di design di tutto quanto il progetto e vorrei fare anche una citazione a Stefano Caraceni che firmerà la maggior parte dei nostri video.